non passa la nomina di sostegni a presidente della commissione speciale sui vaccini a mancare e la preferenza del consigliere scaramelli che non partecipa alla votazione fratelli d'italia e forza italia si tirano fuori un nulla di fatto destinato a lasciare strascichi si è conclusa con un rinvio la giornata destinata all'insediamento della commissione speciale sui vaccini il consiglio aveva dato l'ok il 7 d'aprile ma dopo quasi un mese di confronto al momento di votare il presidente non è stata trovata la quadra per l'incarico era stato designato enrico sostegni già a capo della terza commissione ma non ha raggiunto i sei voti necessari per avere il via libera la preferenza mancante è quella di stefano scaramelli di italia viva che non ha partecipato alle votazioni il caso è stato tuttavia minimizzato da vincenzo ceccarelli capogruppo del pd che ha parlato di schizofrenia delle opposizioni sull'accaduto lo stesso scaramelli ha spiegato di non essere interessata alle poltroni motivando così la sua uscita di scena mi sembra si sia rotta l'opposizione siamo di fronte ad una schizofrenia totale perché la commissione speciale è stata proposta dall'opposizione noi lo abbiamo approvata perché riteniamo che ogni strumento che ha uno scopo propositivo di monitoraggio di suggerimento che possa coadiuvare e supportare il presidente e la giunta per fare una migliore campagna di vaccinazione ci ha trovato e ci troverà sempre d'accordo dopodiché siamo andati in commissione abbiamo fatto una proposta che comprendeva il presidente Enrico sostegni facendolo coincidere con la quella della commissione sanità perché in questo momento parlare di sanità significa soprattutto occuparsi dei vaccini da fare bene e il prima possibile abbiamo fatto una proposta di vicepresidente che è il portavoce dell'opposizione che aveva accettato questa vicepresidenza dopodiché l'opposizione cioè non l'ha più votata quindi noi non comprendiamo come questo possa accadere se non per una schizofrenia cioè legata probabilmente a posizionamenti a divisioni della minoranza perché una parte non aveva già partecipato alla commissione speciale cioè una parte ha dato l'ok per quanto riguarda una proposta che prevedeva la vicepresidenza al loro appannaggio e poi non la si vota quindi mi sembra che più che parlare cioè di divisione della maggioranza si debba parlare di schizofrenia da parte della minoranza personalmente vogliamo dare il nostro contributo ai lavori della commissione sui vaccini non c'è interessato questo triatrino fra i partiti rispetto a chi doveva debba fare il presidente vicepresidente non ci siamo scritti e non partecipato a questo aspetto abbiamo fiducia sul fatto che se sostegni sarà il presidente possa però lavorare in questa commissione ponendo delle condizioni io pongo delle condizioni per lavorare in questa condizione una convocazione permanente della stessa senza interruzione di continuità la presenza costante ad ogni riunione del presidente gianni perché ogni cosa venga deciso da ora in poi sui vaccini il presidente possa condividerlo con la commissione queste sono le condizioni che noi poniamo e si possa allo stesso tempo avere l'ausilio di tecnici e di scienziati che possano supportare le decisioni che dobbiamo prendere condividere quelli che saranno gli hub da definire condividere le possibilità e le strategie per coinvolgere le aziende le associazioni di volontariato l'eliminazione totale e immediata dei click day per evitare che le persone debbano fare le ore di attesa di fronte a un computer per promotare un vaccino chiediamo l'impiego dei medici di medicina generale per poter vaccinare i fragili e soprattutto chiediamo di fare una comunicazione che diventi informazione noi vogliamo informare insieme i cittadini toscani ci aspettiamo che il lavoro di questa commissione ogni giorno che si va a riunire alla sera dia comunicazioni sia questa la comunicazione istituzionale e formale della toscana dai cittadini in merito ai vaccini e dal giorno dopo si facciano le cose che questa commissione ha deciso di fare in maniera collegiale se c'è una commissione ha un senso di lavoro noi siamo per dare una mano siamo per dare un contributo non siamo per prendere una poltrona non ci appartiene motivo per il quale non abbiamo partecipato alla discussione in merito a una poltrona in più o meno non ci serve fare un vaccino in più è meglio un vaccino in più che una poltrona in meno peccato che il suo voto fosse fondamentale per avere la maggioranza relativa il fatto è stato sottolineato da tutte le forze di opposizione che hanno evidenziato la spaccatura nel fronte che governa la regione elisa montemani della liga ha ribadito che non spetta a loro risolvere questi problemi ma di fatto la questione si pone silvia noferi del movimento 5 stelle lo ha definito uno spettacolo indegno ribadendo che già di per sé il fatto di non dare il presidente all'opposizione non era una cosa corretta noi abbiamo presentato la nostra lista abbiamo chiesto che il presidente della commissione speciale lo facesse marco landi abbiamo dato un nome della maggioranza come succede per il vicepresidente e abbiamo chiesto che il segretario questore lo facesse silvia noferi del movimento 5 stelle quindi noi abbiamo portato la nostra proposta di ufficio di presidenza che evidentemente ha scaturito qualcosa all'interno della maggioranza per cui poi scaramelli non si è sentito nemmeno di votare sostegni quindi il problema evidentemente è tutto afferibile a le dinamiche che purtroppo vediamo accadere dall'inizio della legislatura all'interno della maggioranza io dico solo che noi eravamo pronti il giorno dopo per partire con questa commissione speciale perché riteniamo che i disagi debbano essere risolti e che ciascuno di noi possa portare un contributo lo abbiamo detto ci abbiamo messo la faccia ci vogliamo mettere anche il nostro lavoro perché cose come quella successa stamattina non devono più succedere portali che non funzionano vediamo che purtroppo la toscana è l'ultima per la vaccinazione dei sessantenni ecco ci sono tante cose ancora da risolvere noi vogliamo dare un contributo ma evidentemente le lotte interna alla maggioranza fanno in modo che si ritardi la creazione della commissione ma evidentemente anche l'istituzione della stessa a noi ci dispiace però io credo che la politica debba guardare anzitutto al bene dei cittadini purtroppo in questo momento oggi abbiamo visto un brutto spettacolo che non ci fa portare il nostro contributo il contributo che tante persone per bene ci chiedono tutti i giorni adesso c'è l'ufficio di presidenza che è riunito cercheremo di capire cosa deciderà il presidente mazzo certo è che noi rimaniamo fermi al fatto che pensiamo che la commissione sia utile se lavora se deve essere motivo di spaccatura interna alla maggioranza e questo non ci consente di farla lavorare come noi abbiamo chiesto e come pensavamo potesse fare a quel punto dovremmo trarre le nostre conclusioni e dovremmo chiedere alla maggioranza se ancora hanno intenzione di portare avanti pertanto quello che è il teatrino delle poltrone delle votazioni assessori sì non assessore no allargamento dell'ufficio di presidenza o se si intende veramente lavorare per i toscani perché il tema è tutto questo è tutto qui e si riduce proprio a questo la volontà di metterci la faccia di dare un contributo e di lavorare purtroppo oggi siamo ancora fermi al palo dopo un mese dalla richiesta dell'istituzione di questa commissione il tempo passa i disagi rimangono noi abbiamo chiesto un presidente un presidente nostro riteniamo che la scelta legittima fatta dal pd di rimettere in commissione vaccini gli stessi componenti della commissione sanità sia un po una sorta di presa in giro nei confronti dell'opposizione perché noi pensiamo che questa commissione debba essere autonoma indipendente e debba lavorare seriamente se invece si ritiene di fare un doppione da parte della maggioranza perché in opposizione siamo tutti membri che non sono all'interno della commissione sanità e crediamo che insomma o loro anche qui hanno trovato dei disagi a mettersi d'accordo per scegliere i componenti della commissione o altrimenti la vogliono sminuire il più possibile io credo che sminuire l'opposizione sia veramente qualcosa di sbagliato in un momento in cui abbiamo bisogno di tutti e il paese ha bisogno dell'aiuto di tutti quanti uno spettacolo indegno indegno proprio della peggiore politica che si sente raccontare o si vede nei film ecco oggi grazie all'ostruzionismo perché non si può chiamare in un altro modo di forza italia e di italia viva si è fatto di tutto per impedire la nascita di questa commissione quando fuori ci sono problemi grossissimi i cittadini non riescono a prenotarsi sul portale predisposto dalla regione toscana addirittura ci sono delle criticità per cui si possono prenotare anche in due liste diverse quindi un sacco di problemi che potrebbero essere affrontati in questa commissione voluta ricordo dal momento 5 stelle anche dalla lega votata dal partito di dal partito democratico però oggi si è cercato di tutto per impedire la nascita di questa commissione abbiamo perso un pomeriggio solo per decidere chi doveva fare il presidente vicepresidente con tutta una serie di cavigli legati al regolamento che a mio avviso sono inammissibili sono inammissibili soprattutto in un periodo così grave come quello che stiamo vivendo ovviamente la presidenza di questa commissione sarebbe stato auspicabile fosse data alla minoranza ma di fronte alla posizione ferma del partito democratico che ricordo a tutti ai voti in consiglio per poter decidere senza il coinvolgimento delle minoranze uno un po si adatta rispetto alla possibilità di non avere nemmeno questo strumento perché abbiamo visto come funziona la commissione sanità il l'assessore arriva sempre a pochissimo tempo risponde frettolosamente alle nostre domande e soprattutto devo dire la verità anche la l'accettazione delle nostre proposte delle nostre critiche non trova molto riscontro ecco ancora più duri sono stati i giudizi di diego petrucci e marco stella il consigliere di fratelli d'italia ha annunciato prima dell'inizio dei lavori che il suo schieramento non avrebbe partecipato sostenendo che aveva poco senso mettere in piedi un organismo uguale alla commissione sanità il partito di giorgia miloni aveva chiesto infatti una commissione di inchiesta che però non è passata in assemblea il rappresentante di forza italia lo ha seguito qualche minuto più tardi affermando che pur avendo votato la commissione non gli sembrava giusto dare seguito a questo teatrino noi abbiamo scelto di non partecipare perché ritenevamo che la commissione speciale così per come impostata fosse semplicemente un doppione della commissione terza che si occupa già di salute e sanità e non servisse a nient'altro che a creare un ulteriore elemento dove far accomodare qualcuno i fatti di oggi di fatto ce lo confermano sono le 4 e un quarto la commissione speciale era convocata per le 14 e 30 per l'elezione del presidente ancora non c'è stato dopo due ore di fatto di ritardo perché c'è stato probabilmente uno scontro su chi farà il presidente da una parte c'era la candidatura portata avanti dal partito democratico dell'attuale presidente della terza commissione quindi appunto il doppione dall'altra la candidatura avanzata dal vicepresidente Italia Viva Scaramelli il quale abbiamo sentito chiede starò dentro a patto che Gianni partecipi costantemente ai lavori della commissione evidentemente ci vuole un elemento di novità rispetto appunto alla terza commissione quindi fino ad ora la commissione speciale non solo non ha prodotto nulla ma ha prodotto ulteriori elementi di frizione all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso io penso che potesse eventualmente avere un senso se c'era comunque una condivisione totale su una commissione speciale sui vaccini che dovesse in qualche modo sostenere e coadiuvare l'assessore in realtà produce ulteriori frizioni all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso quindi parte nel peggiore dei modi noi abbiamo deciso come Fratelli d'Italia di starne fuori per ora i fatti ci danno ragione vediamo che cosa succede direi nei prossimi minuti e comunque nei prossimi giorni non avevamo mai visto onestamente una situazione così paradossale noi abbiamo votato convintamente il 7 di aprile l'istituzione di una commissione speciale sui vaccini perché eravamo convinti che occorreva un salto di qualità nel piano vaccinale occorreva dare un contributo fattivo alle tante lacune della fase vaccinazione che c'è in Regione Toscana per esempio come la nostra mozione per vaccinare i malati oncologici anche dopo i 6 mesi dalla fine delle cure chemioterapiche o della radioterapia fino ad arrivare ai 5 anni di follow up eravamo convinti che occorreva per esempio vaccinare i caregiver non solo quelli dei bambini sotto i 16 anni ma tutti eravamo convinti che occorreva accelerare e vaccinare il più velocemente possibile poi ci siamo ritrovati oggi con il paradosso che la proposta senza prima chiamarci, senza prima sentirci, senza prima nemmeno una telefonata della presidenza della commissione speciale sui vaccini sarebbe spettata naturalmente al Partito Democratico ma a chi? A Enrico Sostegni cioè a quello che attualmente è il presidente della commissione sanità e gli stessi membri della commissione sanità il Partito Democratico li ha riportati nella commissione speciale sui vaccini noi lo abbiamo considerato un atto veramente poco coraggioso e soprattutto un atto che non avrebbe fatto né luce né chiarezza da un lato che non avrebbe portato nessun tipo di contributo per questo come Forza Italia nonostante avessimo detto di sì all'istituzione oggi abbiamo detto che non siamo disponibili a partecipare alla commissione speciale sui vaccini se il tema diventa quello di insabbiare, se il tema diventa quello di non scoprire se il tema diventa quello di non proporre, se il tema diventa quello di dire va tutto bene guardate soltanto stamani mattina sono arrivate migliaia di persone che non sono riuscite a vaccinarsi ecco perché laddove non c'è chiarezza non può esserci Forza Italia La bocciatura di Sostegni rimanda la palla nelle mani dell'ufficio di presidenza che dovrà disegnare il presidente provvisorio alla prima seduta della commissione poi sarà votato il vertice effettivo Grazie a tutti Grazie a tutti